Benvenuti ad una nuova puntata di Voglio Vivere Così. Ci troviamo a Palma di Mallorca, nota anche come la perla del Mediterraneo. Ed oggi vi porteremo nella parte nord-orientale dell'isola, per l'esattezza nella cittadina di Poglienza, a pochi chilometri dal paradiso che tutti conoscono con il nome di Formentor. Nonostante sia diventata una delle località turistiche più popolari di Mallorca, nel periodo estivo chiaramente, appare ancora come un'autentica città storica ancorata alle sue radici, con le sue case di pietra e molti vicoli pieni di negozi, bar e ristoranti tipici di Mallorca. Fu fondata nel 1229 in coincidenza con l'occupazione catalana a Mallorca. Per gli attuali appassionati di arte e storia, sono davvero numerosi i luoghi da poter visitare come musei, santuari, grotte e giardini. Difatti, gioca un ruolo importantissimo nella vita culturale dell'isola. Pensate che a partire dai primi anni del XX secolo, il centro diventò la meta preferita di importanti pittori e letterati spagnoli ed europei, proprio perché trovavano in questo luogo una grande fonte di ispirazione. Per gli attuali appassionati in questo luogo un'autentica di un'autentica M'agrata 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 Y m'agrata M'agrata E'perdido La razón Sabe Que Si no estas Me vuelvo loca Sabes Que Si no estas Nadie me toca Yo lo se Tu me amas Porque te juro No pido Nada más Vi aspettiamo nella prossima puntata di Voglio vivere così. E non dimenticatevi di seguirci su isoladimaiorca.com